Love is in the air. Trama puntate. Mercoledì 9 febbraio 2022. Eda prova a rispondere alla domanda di Serkan, ma queste curiosità iniziano a trasformarsi in un vero e proprio litigio. I due decidono quindi di chiudere la serata prima del previsto, ma cominciano a stuzzicarsi tra battute e frecciatine. Tra Eda e Serkan alla fine prevale la passione e dopo diversi baci i due trascorrono la notte insieme. Il mattino successivo Bolat fa dei gesti romantici per Eda portandole anche la colazione a letto e successivamente la domanda se intende tornare ad avere una relazione con lui per garantire stabilità e felicità alla piccola Kiraz. Inaspettatamente Eda decide di accettare, anche se la loro non sarà una storia d'amore vera e propria e soprattutto non ci sarà ancora la possibilità di viverla alla luce del sole. In seguito Aidan, dopo aver discusso a lungo con Aifer, prende la decisione di ascoltarla e di rivelare a Serkan che in realtà suo padre è Kemal. Così, non avendo il coraggio di parlargli di persona, la donna decide di rinunciare all'idea della lettera, ma lascia il lungo messaggio in segreteria al figlio, in cui gli spiega nei dettagli ciò che è successo. Ad ascoltare il messaggio però Eda. Grazie. Grazie.